Che cosa mi conviene comprare? Canon M50 o Canon R100? Sono due fotocamere mirrorless uscite in periodi diversi con caratteristiche simili però ci sono un po' di differenze e questa è una domanda che mi avete fatto letteralmente in due milioni di persone. Per cui oggi sono qui a cercare di dare una parziale risposta, andremo a vedere come si comportano queste due fotocamere, ho fatto un piccolo test fotografico e oggi vi presento i risultati. Intanto vado a mostrarvi le macchine che abbiamo usato per fare questo test. Come potete vedere entrambe montano la loro ottica kit, le dimensioni sono pressoché identiche. Devo dire che R100 forse è un pochino più grande e di sicuro mi sono trovato meglio per quanto riguarda il grip. Come impugnatura ho preferito R100 a M50, anche se devo dire che M50 mantiene il vantaggio del monitor articolabile che invece R100 non ha. Dunque nel corso di questo video andremo a vedere chi vince questo primo match, se qualcuno lo vince e aspetto i vostri commenti perché vi farò vedere delle fotografie realizzate con queste due fotocamere e con una terza fotocamera che però sveleremo solo alla fine di questo video. Ciao a tutti amici, bentornati sul mio canale. Io sono Cesare, mi occupo di fotografia. Come avrete visto da video precedenti sono in possesso di una Canon EOS R100 in questo momento. Me l'hanno mandata affinché io potessi testarla e dirvi quello che ne penso. Siccome mi avete sommerso di messaggi siamo qui oggi a fare proprio un test fotografico per vedere come si comporta questa macchina che è uno dei gradini più bassi delle entry level della casa. Andiamo a vedere come si comporta rispetto a un'altra macchina come M50 che non è proprio un entry level perché quando era uscita aveva delle caratteristiche che erano molto interessanti. Quindi oggi andiamo a vedere come si comportano queste due macchine su un set fotografico che ho allestito apposta. Il set era questo, era molto molto caruccio. Come potete vedere stiamo fotografando il mio bellissimo Seiko 5. Ovviamente Seiko non mi paga per fargli questo spot totalmente gratuito. Molto bene ma io direi cominciamo a vedere qualche immagine. Come potete vedere questa è la prima foto scattata con la M50 e questa è la prima foto scattata con la R100. Ora ditemi voi se vedete delle grosse differenze vi dirò che francamente io non ne vedo. La differenza che ho potuto riscontrare è più che altro una differenza tattile nel senso che le due macchine sono abbastanza diverse in mano per cui ci si può trovare meglio o peggio a seconda di quale delle due si sta utilizzando ma a livello prettamente fotografico di qualità d'immagine devo dire che secondo me sono abbastanza vicine. Io personalmente non vedo tutta questa distanza perlomeno su questo set. Nel corso dei prossimi video andremo a testarle in altri ambienti soprattutto se mi dite che è una cosa che vi può interessare per cui fatemelo sapere in un commento se volete che prosegua con test di questo tipo. Ma andiamo a vedere una fotografia scattata con un'altra macchina fotografica che è questa. Ora io non posso ancora dirvi di che macchina fotografica si tratta provate a mettere in pausa il video guardatevele tutte e tre e provate a indovinare nei commenti. Alla fine del video vi prometto che sveleremo la macchina misteriosa andremo a capire di che cosa si tratta che sensore ha e come si colloca rispetto a queste due che stiamo esaminando però devo dire che in questo caso osservando questi tre scatti affiancati ditemi anche voi se notate delle differenze colossali e tenete conto che le fotografie sono state scattate con la stessa lunghezza focale e con gli stessi parametri che ve li posso anche dire eravamo a un sessantesimo di secondo f6.3 iso 100 per cui questi erano i parametri per tutte le foto che sono state scattate oggi con tutte le macchine che ho utilizzato. Ora ditemi se vedete delle differenze abissali o una cosa che noto è che abbiamo delle lievissime differenze di risoluzione perché qualcuna di queste macchine ha un paio di megapixel in più un paio di megapixel in meno quindi come vedete l'immagine non è perfettamente centrata non sono identiche e anche la distanza in una certa misura è cambiata perché stavo scattando a mano libera cercando di ricomporre lo stesso frame. Devo dire le differenze sono soprattutto queste a livello di pigmentazione io che so con cosa ho scattato lo vedo che c'è qualcuna delle fotografie che presenta una colorimetria un po migliore un dettaglio un po più fine ma guardandole così ditemi voi che cosa ne pensate veramente poca cosa. A questo punto andiamo a vedere un'altra tornata di foto in cui stesso set stesse luci stesso tutto non ho cambiato niente se non l'angolazione e la distanza di messa a fuoco. La prima cosa su cui mi casca l'occhio è che e sono stato molto rigoroso ragazzi nel senso che ho puntato scattato e quella era la foto per cui la prima cosa che ho notato è che con Canon EOS M50 l'ho cannata vedete con la M50 l'ho cannata e non sono riuscito a capire se si è trattato di un problema di distanza quindi forse mi sono avvicinato troppo e a quella distanza non metteva più a fuoco oppure se si è trattato di un disguido con la messa a fuoco la macchina può essere rimasta confusa per tutti i bagliori che c'erano per tutte le parti riflettenti cromate o per le luci parassita che comunque entravano in camera oppure semplicemente posso essermi mosso io non ho capito quale delle tre fatto sta che siamo costretti a riscontrare che con la M50 io ho sbagliato questa foto mentre come potete vedere con la R100 l'ho fatta giusta questo lascia un po il tempo che trova non significa che con M50 si sbagliano le foto significa che vuoi perché come grip io mi trovo meglio sulla sulla R100 rispetto che sulla M50 vuoi perché la R100 mi ricorda di più il grip di macchine più grosse con cui lavoro abitualmente secondo me questa potrebbe essere la cosa secondo me questo grip con cui mi sento più a mio agio perché mi ricorda quello della R6 per esempio un R6 in miniatura come come grip forse questo mi ha messo più a mio agio e sono riuscito a fare meglio con la R100 piuttosto che con la M50 posto comunque che siamo abbastanza sicuri che avrebbero performato in maniera assolutamente simile anche in questo caso quindi è semplicemente una questione che secondo me l'autofocus è migliorato ecco andiamo a vedere la fotografia fatta con l'ultima macchina fotografica che ancora non abbiamo svelato in questo caso di nuovo e questa volta ve lo posso dire secondo me in questo terzo scatto il dettaglio è un po più fine e i colori sono un po più ricchi questo va detto perché è una macchina che è un gradino più su e quindi vi sto già dando degli indizi a questo punto andiamo a vedere le fotografie tutte quanti affiancate e vediamo se riusciamo a intravedere delle differenze vi dirò che a questo livello di ingrandimento io grosse differenze non ne vedo andiamo a ingrandire ancora di più e di nuovo io grosse differenze faccio onestamente fatica a vederle c'è anche da dire che stiamo parlando di una fotografia in cui il soggetto è abbastanza centrato bisognerebbe poi andare a vedere come si comporta sui bordi ma lì andremo a parlare dell'ottica più che della macchina fotografica quindi secondo me un test di questo tipo è abbastanza indicativo della qualità d'immagine perché il sensore se cattura in quel modo al centro tendenzialmente con un'ottica di qualità dovrebbe catturare più o meno uguale anche sui bordi beh a questo punto amici come promesso andiamo a svelare qual è la terza macchina fotografica la camera misteriosa con cui abbiamo fatto la terza foto la macchina misteriosa è una canoneos 700d una fotocamera con sensore apsc che io ho sempre considerato il mio muletto la macchina che mi porto dietro quando voglio stare tranquillo quando non voglio troppo peso ma voglio comunque una qualità d'immagine decorosa ora secondo me questa fotocamera si comporta meglio di queste due a livello di sensore nel senso che da quello che ho potuto riscontrare mi sembra di vedere dei colori che almeno sul mio monitor e per quella che è la mia osservazione si comportano meglio ora di quant'è questa differenza ditemelo anche voi riguardiamole a monitor tutte e tre adesso che sappiamo qual è la terza camera ditemi voi se vedete delle differenze così lampanti io vi dirò che francamente se me le facessero vedere ma come immagino sarebbe per chiunque se io vi faccio vedere queste tre immagini senza dirvi quale fotografia proviene da quale macchina secondo me nessuno la zecca perché è vero che ci sono delle differenze e una volta che sappiamo quali sono queste differenze magari è anche facile beccare delle caratteristiche peculiari di un sensore o di una lente piuttosto che un'altra ma così blind test secondo me è veramente difficile rendersene conto su una fotografia di questo tipo a questo punto io vi chiedo fatemi sapere in un commento se ci sono altri test se vi vengono in mente altri test che volete che io faccia una cosa che potrei andare a fare potrebbe essere per esempio il test ad alti user una cosa che volevo fare sulla r100 per vedere perché molti mi avete chiesto fin dove la posso usare avendo delle immagini con della grana accettabile questo è un test che penso che andrò a fare fatemi sapere se ci sono altri test che vi vengono in mente perché potrei andare a farli non credo che li farò tutti perché non ho tutto questo tempo farò i più interessanti quelli che mi suggerite più interessanti quelli più coinvolgenti andremo a fare questi test in maniera da fare una panoramica esaustiva su quelle che sono le capacità e le proprietà di questo sensore di una macchina che dichiaratamente è un entry level ma che devo dire secondo me può fare le sue belle cose in ambito still life sicuramente come avete potuto vedere perché comunque non sfigura di fianco a macchine più o meno della stessa fascia di epoche passate ma anche a macchine lievemente superiori devo dire non sfigura e comunque ha un sistema di messa a fuoco che non mi ha deluso che se l'è cavata piuttosto bene quindi da questo punto di vista secondo me la macchina è valida poi dipende sempre da quello che ci facciamo sicuramente non sarebbe la mia prima scelta sicuramente per come la vedo io una macchina come questa è chiaramente un entry level la filosofia dell'entry level è quella sto cercando di prendere qualcosa che costi poco quando io prendo un entry level non sto pensando voglio la qualità massima sto pensando voglio pagare meno possibile quindi è evidente che non è la macchina migliore che possiamo prendere però dipende da che cosa vogliamo fare perché io vi dico per esempio che se doveste fare solo set di fotografia still life non ci sarebbe chissà quanta differenza tra questa e una qualunque intermedia come avete potuto vedere il file è assolutamente decente non si notano grosse differenze né dal punto di vista del rumore né dal punto di vista della pasta dell'immagine quindi soprattutto se stiamo lavorando in ottica social media in ottica digital e se stiamo facendo cose in luce controllata quindi un set come quello che ho allestito in tre minuti io qui oggi per voi secondo me questa macchina può assolutamente dire la sua e può essere un'opzione che ci fa risparmiare rispetto a mi viene in mente un video che avevo pubblicato tempo fa c'era uno di voi che mi aveva fatto una domanda e mi aveva detto ma secondo te vale la pena comprare una r6 mark 2 con il 100 millimetri macro per fare delle foto che devono andare esclusivamente su instagram ecco in un caso del genere io francamente sconsiglio di investire tutti questi soldi per poi finire su instagram in questo caso secondo me questa potrebbe essere la via poi sono scelte personali e se uno se lo può permettere vuol fare un upgrade prendere qualcosa di più ovviamente è solo meglio però in molti casi secondo me non è necessario a questo punto amici fatemi sapere come sempre nei commenti che cosa ne pensate fatemi delle domande finché ho la strumentazione in mano fatemi delle domande così se vi vengono in mente dei bei test possiamo andare a farli sul campo io vi ringrazio come sempre di aver passato un po del vostro tempo con me e vi do appuntamento al prossimo video ciao